Amorosissima Vergine, Madre Immaculata da Bozzi, aiuto, speranza e rifugio dei cristiani. In questo momento, abbandonando le mani per i sedi del mondo, mi elego a te come un cuore e come un pensiero, che dichiaro con il mio amore e il mio amore e il mio amore e il mio amore. E' il mio amore e il mio amore e il mio amore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.